Benvenuti nella nostra cucina. Ciao. Non è una ricetta oggi perché non le vuoi più fare? Perché non ho idea. Scrivete. Meno un panna, no? No, no, no. Perché non le vuoi fare? Non hai più idea? Scrivete. Ah, faticoso, no? Che non hai più idea. Va bene, oggi non è una ricetta che ci fai vedere. Andiamo a cucinare questo, ma come? Una curiosità della cucina giapponese. Cucina? Cucina. Sì, della cucina giapponese, sì. Diciamo la cucina giapponese perché qui, a parte il microonde che usiamo spesso, non abbiamo il forno. Cioè, praticamente il forno... Questo diventa anche forno. Sì, ma non è il forno, dai, che siamo abituati in Italia, eccetera, è un forno un po' diverso. Quindi, inserito nei fornelli che ci abbiamo. Adesso toccatemi. Questo è griglia per pesce. Sakana yaki griglia. Sakana vuol dire pesce, yaki vuol dire alla griglia. E c'è in tutte le case giapponesi? Sì. Questo è insieme con questo mobile, no? Sì, quel mobile della cucina, sì. Si vende anche solo gas. Ah, che si appoggia sopra, esatto, sì. Però anche di là c'è questa parte qua. Sempre quella lì. Per gridare pesce. Per gridare il pesce, però, non solo il pesce, ma... Ma anche carne o per verdure. E si può usare in qualsiasi modo. Sakana yaki griglia. Cioè, proprio... Guarda qui, non l'ha pulito. Comunque, vabbè, qui, esatto, qui si è scritto che brucia, quindi bisogna stare attenti. E come sono i comandi? Questi sono i comandi dei fornelli. Mentre questo qua l'ho scritto, chiaramente, vedete, scritto guriru. E questo qua. Quindi come si accende? Funziona anche questo a gas, non è elettrico. E accende questo piccolo fornetto, diciamo, a gas. Guarda qua. Che ti faccio vedere? Poi si può... Ma si vede niente? Ah, sì, si vede lì sotto, è vero, il gas è lì, eh. Tipo abbassare e... Alzare. Abbassalo? Tutto? Alzalo? Però io... Ora non è diventato quasi caldo, quindi non fa niente. Ok. Cambiamo. Però subito diventa caldissimo. Sì. Quindi è molto utile. Cioè, dov'è quella bottiglia? Vedo che qui sotto c'è tutto il vino che ce l'abbiamo. Prendi quel tavernello. Tavernello. Andiamo a far vedere questo qua. Il tavernello organico. Questo l'ho pagato mille yen, che sono circa otto euro. Ed è praticamente vino biologico, tavernello organico, tere siciliane, imbottigliato a Forlì. E oggi facciamo questa carne, che poi non è che, vabbè, dopo che la facciamo vedere cotta, eccetera, però non quando la mangiamo. Questa è carne del supermercato. Non è confezionata, o meglio, è confezionata, ma non l'ho macellata io. Quindi oggi cuciniamo, eh? Pensa a te. Ho fatto io dopo. Hai fatto te? L'hai, sei andata a ucciderlo te, questo maiale? Ah, no, no. Poi, per usare questa parte c'è anche questo grilla. Grilla, grilla, grilla. Niente, no? Grilla. Eh? Ha? Sì, sì. Eh, niente, no? Si mette, tipo, pesce o perdure, poi si mette qua. Della grandezza giusta del sacanaglia, che perfetto, vedi? Sì, sì, sì. Sì, del sacanaglia, quale ci vuole per cuocere, favore, questo qui di dentro? 30 minuti? 30 minuti gira, no? Quando è cotta, è cotta. Ma quando è cotta, è cotta. Sì, vabbè, dopo vi facciamo vedere cotta. Dai, andiamo a metterlo. Ripeto, questa carne comparata, eh? Prodotti pronti, incartati, la carta, si dicono sempre. Guardate, potete vedere Iuri nell'atto del cucinare, pensa a te. No, perché la gente pensa che non cuciniamo mai, vedono un video e dicono, no, cuciniamo anche noi. Semplicemente quando faccio la fettina ai ferri col pomodoro non ve la faccio vedere. Ok? Aspettiamo 30 minuti. Sono passati i 30 minuti, non senza difficoltà, perché? Eh? La carne era un po' grande questa qui, vero? Sì, quindi ho tagliato qua. Bene. Cosa avevi condito prima che non te l'avevo chiesto? Che c'è sopra? Pepe sale e rosmarino di Mirko. Il rosmarino di Nagoya, il famoso rosmarino di Nagoya. Hai messo qua? Sì, l'ho messo qui detto, di un nostro amico Mirko che c'è il rosmarino fuori di casa e ce l'ha dato. Va bene? Ora adesso non ve lo facciamo mangiare perché questa non è una roba confezionata, quindi non è che ve la facciamo vedere. Va bene? Ci vediamo un po' sempre. Anche questo non è confezionato però, guarda, vedi che addirittura fa anche la zuppa, vedi? No, ma mica sto dicendo che tu non cucini, sono le persone che dicono che mangiamo sempre confezionato, digli. Non è una cosa da far vedere che è una zuppa per dare ai bambini che è malata, no? Però mica fa schifo, è buona questa qui, eh? La classica è la zuppa giapponese, quindi... Non è che è una cosa da far vedere. Ho capito! Non è un'occasione. Se facciamo vedere i biscotti di Gundam e quella roba lì si può far vedere anche che te cucini la zuppa, no? Eh? Se no, ci dicono sempre che mangiamo sempre confezionato, eh? Questa non è confezionata, vero? Questa è fatta, no? No, però non è da far vedere neanche perché è una cosa per mio, ma che è malata, no? Ah, è malata, posso. Adesso non è più malata. Ci vediamo un po' si viva dal Giappone. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Riti. Ciao. Ciao. Grazie.